hm? Pigyalo! Hai! Oh...scusa, non ti avevo visto! Ti ammazzo! Eh, mica lo vuoi fare, però eh 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 HHHHHH HCHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH Dammi la zampa Guarda Siediti Buongiorno a tutti Ma come si usa sto il radio? Guarda magari questo bottone Guarda come si fa Ah ferma sta musica NASA Questa bambola ha assomigliato male Veramente Vero vero Sta macchina mi sono svegliato male Eh che ci posso fare? Ora ti do un pugno nel culo Gon gon panza Wow Mi fa male La schiena Ma che c'ha quelli? E che ha mangiato gioppi dolci Mi butto Io pure E che c'è la schiena